Cosa consiste la chirurgia ricostruttiva della mammella? Quali sono le opzioni disponibili e cosa si può dire alle donne che oggi temono gli esiti antestetici della chirurgia? L'abbiamo chiesto un vero esperto al professor Benedetto Longo. L'abbiamo incontrato a Roma a margine di un evento che si è svolto alla Camera presso la Sala della Regina durante il quale è stato presentata la prima consensus sull'innovazione nel tumore della mammella, un progetto molto importante organizzato da Ladies First. Professor Longo, in cosa consiste esattamente la chirurgia ricostruttiva della mammella? Come viene fatta e a chi si rivolge? La chirurgia ricostruttiva della mammella oggi è un ampio capitolo della chirurgia plastica, è molto importante perché restituisce l'obiettivo di restituire alla donna un seno quanto più prossimo a quello naturale, perso purtroppo in seguito alla chirurgia ablativa del tumore della mammella. Quello su cui lavoriamo è cercare di offrire a tutte le donne la possibilità di ricostruire il proprio seno sia con materiali protesici e sia con i propri tessuti, i cosiddetti tessuti autologhi. L'obiettivo di questo consensus è proprio quello di cercare di diffondere la cultura di inserire il chirurgo plastico che abbia tutte le capacità di offrire ogni tipo di procedura ricostruttiva nell'ambito del seno e quindi dare ad ogni paziente quella che è la sua tecnica ideale. Non esiste una tecnica ideale per tutte, ma questa dipende dal tipo di mastectomia, dipende dalla morfologia della paziente, ma sempre con lo stesso obiettivo, quello di restituire la propria immagine corporea e una qualità di vita adeguata alla paziente. Cosa possiamo dire alle donne, a molte donne che oltre alla paura della malattia oncologica, che logicamente è la cosa dominante, però temono anche poi gli esiti dell'intervento chirurgico, gli esiti antiestetici. Cosa possiamo dire? Possiamo dire che possiamo rassicurarle perché oggi tutte le tecniche a disposizione della chirurgia plastica ricostruttiva permettono di ottenere delle ricostruzioni di qualità assolutamente di altissimo livello, sempre che ci sia a disposizione una figura specialistica che è dedicata e che abbia un expertise di lunga data che è dedicato a questo tipo di chirurgia. Ovviamente lo specialista ha questa finalità, noi lo diciamo sempre alle nostre pazienti, cerchiamo di rasserenarle e cerchiamo di fargli capire che alla fine di questo percorso probabilmente avranno avuto molto più di ciò che hanno perso. Senta, la consensus ha voluto significare anche fare un po' una disamina della situazione italiana, ecco tutte le breast unit sono dotate anche poi di una chirurgia plastica, ecco qual è la situazione nella penisola? C'è una situazione molto disomogenea perché non tutte le breast unit purtroppo sono dotate di un chirurgo plastico o di team di chirurgia plastica, spesso sono vicariate dal chirurgo senologo o da un chirurgo oncoplastico e questo purtroppo limita l'accesso a tutte le tecniche di chirurgia ricostruttiva e quindi l'obiettivo di questo consensus è cercare di promuovere la presenza di almeno un chirurgo plastico o di un team di chirurghi plastici che siano dedicati a questa attività ma anche e soprattutto che i DRG a livello nazionale riconoscano l'impegno chirurgico maggiore che riguarda la chirurgia ricostruttiva autologa rispetto a quella protesica che oggi purtroppo è penalizzato e quindi cercare di favorire qualsiasi tipo di ricostruzione visto che al contrario della chirurgia ricostruttiva della protesica che richiede delle revisioni nel tempo necessarie, certe al 100%, la chirurgia ricostruttiva autologa è realmente definitiva.